Il Paradisi delle Signore 9, Chi c'è e chi no, Vito Assente, Marcello e Salvatore presenti. La collaborazione con Il Paradisi delle Signore 9 proseguirà ufficialmente a settembre con i nuovi episodi che i fan stavano già aspettando. Si vocifera che le sorprese non mancheranno, comprese alcune novità che daranno una scossa alle dinamiche dei grandi magazzini milanesi. Tra i personaggi che non compaiono spicca il nome di Vito Lamantia, interpretato dall'attore Elia Tedesco. Ma centrali nella trama restano le vicende di Marcello e Salvatore. Vito Lamantia Assente dalla nuova puntata del Paradiso 9 a settembre i nuovi episodi della nona stagione non vedranno sul palco Vito Lamantia, almeno per la prima parte della stagione. L'ex contabile di un grande magazzino milanese ha lasciato Milano dopo aver salutato la fidanzata Maria Pugliesi. Ma ha deciso di realizzare il suo sogno d'amore con Matteo Portelli nel finale dell'ottava stagione. Può averle augurato buona fortuna e sperato che possa finalmente trovare la felicità al fianco di Matteo. Vito fa un passo indietro e si prende un momento per apprezzare la città che gli ha dato tutto ma gli ha anche causato così tanto dolore che ho deciso di andarmene. Marcello e Salvatore in piedi al centro della nuova sezione tra i personaggi che appariranno nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore 9 spicca il nome di Marcello Barbieri, che sarà impegnato in una doppia sfida a partire da settembre. Da un lato deve assumere la gestione dei grandi magazzini milanesi con Roberto Landi dopo le dimissioni di Vittorio Conti. Dall'altro deve proseguire il rapporto con la contessa ed evitare danni da parte di Umberto Guarnieri. Inizia una nuova tappa della sua vita, diventando protagonista di una nuova storia d'amore con Elvira Gallo. C'è anche un giovane Salvatore amato interpretato da Immanuel Caserio. Pochevenere decide di porre fine alla sua relazione con Tulio, i due sono pronti a vivere insieme durante il giorno. Elvira ha affrontato i suoi genitori nel finale della stagione 8. Nel finale dell'ottava stagione, Elvira si ritrova a non riuscire a nascondere i suoi sentimenti per salvo, che recentemente le ha dimostrato un affetto particolare e l'ha aiutata a superare vari momenti di crisi con Tulio. La ragazza decide allora di confrontarsi con i suoi genitori e confessarle la verità su questa nuova storia d'amore, anche se sa che non la prenderanno di buon occhio. Suo padre, infatti, le chiese di ritornare insieme a Tulio al più presto e di non abbandonare questa storia d'amore, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per tutta la famiglia.